Il Lido di Argegno torna a disposizione di cittadini e turisti. Tolti questa mattina i sigilli alla struttura e ora si guarda alla stagione estiva. Si chiude la prima parte della vicenda, commenta con soddisfazione il neosindaco del paese Roberto De Angeli. L'obiettivo, aggiunge il primo cittadino, è rendere il Lido agibile e metterlo a disposizione di tutti entro metà luglio, anche perché ormai la stagione estiva è iniziata e non possiamo perdere tempo. Per volere del giudice delle indagini preliminari di Como, l'utilizzo del Lido era già stato concesso due mesi fa, ma fino ad oggi i sigilli erano rimasti, elemento non certo positivo per l'attività turistica del paese. Per questo motivo i legali avevano presentato un'altra istanza per sollecitare l'intervento. Questa mattina è arrivato il corpo forestale di Pellio Entelvi per rimuovere i sigilli, spiega ancora il sindaco di Argegno. Ora quindi sono disponibili sia l'area esterna con piscine, prato e cabine, sia quella interna con bar e ristorante. Le indagini, conclude De Angeli, andranno avanti e l'area rimane sottoposta a sequestro preventivo, ma almeno abbiamo la possibilità di usare il Lido. La rimozione dei sigilli arriva a circa un anno dal sequestro della struttura, deciso dal giudice in quanto le opere in corso erano state realizzate in un'area a rischio idrogeologico molto elevato, mentre in quel punto, alla foce del torrente Telo, i lavori consentiti erano limitati.